Tra sogno, gioco e meraviglia, l'arte di Enrico Benaglia in mostra al Circolo degli Esteri a Roma per un'antologia che ripercorre la sua lunga e prestigiosa carriera. Cinzia Terlizzi. A malavita Enrico Benaglia, i colori, la musica, la gente, elementi che ritroviamo nella sua arte, visionaria e poetica, dipinti dei tratti infantili in cui il gioco, la fantasia, la capacità di sognare e di meravigliarsi di fronte alla bellezza di un'alba di quartiere o dell'immensità del cielo, coinvolgono ed emozionano. Vedo le persone, la gestualità, gli eventi, ma sempre dove ci trovo poesia. Il loro modo di fare, la gestualità, la parola, il loro scatto di movimento, mi danno sempre un'ispirazione. La mostra allestita al Circolo degli Esteri a Roma offre un'antologia della lunga carriera di Benaglia che anche di fronte a una realtà non facile né felice, come all'epoca del lockdown, realizza sempre opere che infondono sorriso e speranza. Andare oltre, malgrado tutto. Grazie a tutti.